Prima hanno rubato un borsello da un'auto parcheggiata all'Eurospin per un bottino di 50 euro, poi si sono spostati al centro Casalinghi dove hanno tentato un altro furto ai danni di un autotrasportatore sventato dal figlio dello stesso lavoratore, banditi in azione nel primo pomeriggio di lunedì nella zona PIP di Francavilla Fontana. In azione la stessa banda, composta da tre uomini, sembrerebbe non armati a bordo di un Audi A4 Station Wagon di colore blu. Il primo colpo per così dire nel parcheggio del supermercato. I furfanti hanno messo le mani su un borsello lasciato in auto da una donna del posto, dentro c'erano 50 euro, poi la fuga di poche centinaia di metri in direzione al centro Casalinghi. I malandrini, come raccontato dallo stesso autotrasportatore, hanno cercato di entrare all'interno del camion parcheggiato pensando di non trovare nessuno e invece nel mezzo c'era il figlio del lavoratore che ha di fatto messo in fuga la banda. Ho finito di scaricare, ho fatto una consegna qui al centro Casalinghi, ho finito di scaricare, sono andato avanti con il camion per chiudere le porte dietro. Il mio figlio che stava dall'altra parte ha notato una persona che è entrata in cabina. Due secondi, in termini di due secondi. Il ragazzo stava prendendo il numero di targo con il telefonino mentre stava facendo... e l'hanno minacciato le stati femmine che se no ti spacchiamo la faccia, ci scendiamo giù. E se no sono andati via. E' una cosa dell'altra. Questa è la seconda che fanno, a me personalmente e a altri colleghi miei che non vogliono nemmeno venire più a Francavillo. Perché dice se no dobbiamo andare a guadagnare un pezzo di pane e poi dobbiamo lasciare quello e l'altro, non vale la pena. La paura del lavoratore è condivisa anche da Vincenzo Di Castri, titolare del centro Casalinghi e già vittima nelle scorse settimane di un altro episodio criminoso, da qui l'appello a istituzioni, forze dell'ordine e anche imprenditori. Io faccio un appello alle istituzioni e tutto. Già alla zona industriale non si può fare niente. Oggi essere pure maltrattati stiamo dando una visibilità a Francavilla che penso non è quella giusta. Alle istituzioni, ai miei colleghi diamoci una mossa e svegliamoci perché il treno ce l'abbiamo ma lo stiamo perdendo. Le indagini per risalire all'identità dei banditi sono già state avviate dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Nessun dubbio che si tratti della stessa banda in azione per due volte potrebbe trattarsi di nomadi, gente senza fissa dimora in tour, per così dire, nella città degli imperiali, a caccia di qualche facile e criminoso guadagno.